Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Proseguono a tutto campo le indagini della polizia per far luce sull'attentato incendiario contro Fano TV Con la tecnica dell'abbraccio sfilano una catena d'oro ad un anziano ottantenne Mamme allarmate per le siringhe abbandonate in un parco vicino ad una scuola elementare Sul posto arriva anche la polizia Ritocchino estetico per l'interquartieri dopo i primi segni di usura del manto stradale Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Dunque proseguono a tutto campo le indagini della polizia di Fano per far luce sull'attentato incendiario contro Fano TV Un uomo incappucciato giovedì sera aveva dato fuoco all'ingresso dei locali provocando danni fin dentro la reception Senza per fortuna interessare la zona degli studi e degli uffici Il fatto è avvenuto alle 20.53 e solo per puro caso all'interno non si trovava nessuno dei dipendenti della televisione Ora le indagini vanno avanti senza escludere nessuna ipotesi E sono affidate al commissariato di Fano diretto da Stefano Seretti e coordinate dalla procura di Pesaro e Urbino La tecnica è sempre la stessa Un abbraccio apparentemente innocuo in segno di amicizia Dietro il quale però si cela, si nasconde una tecnica ormai consolidata Che spesso è fulminea ad opera di giovani donne che una volta individuata la vittima Sfilano catenine, doro e quant'altro E solitamente come dicevo le vittime sono anziani Sul fronte delle truffe agli anziani non c'è nulla di nuovo Anzi, le metodiche per carpire la buona fede dei malcapitati nonni sono ormai consolidate La truffa dell'assicuratore Quella dei falsi addetti di vendite di aziende varie e variegate Che devono controllare poi non si sa che cosa E la sempreverde come non ti ricordi di me O la più subdola ancora Tecnica dell'abbraccio Il signor Facchini, arzillo tantenne fanese Nello scoperto della sua abitazione alle spalle del ristorante Pesce Azzurro Sabato mattina, come tanti suoi coetanei Assolve egregiamente il suo compito di nonno premuroso Intrattenendo e giocando con la sua amata nipotina Quando ad un certo punto Mi si avvicina una ragazza di là della regliera E mi ha chiesto delle informazioni Se conoscevo, mi ha detto un nome Mi viene in mente Mi ha detto no, non conosco nessuno E parlava mezzo spagnolo Mezzo italiano Ogni tanto cercava di allungarmi Voleva a dirmi una cosa C'era la mano nella spalla E ho sentito Guarda Beh da gi Che è fatto io Che non voglio di scuola Dopo 5-6 minuti Mi ha detto Dai ci salutiamo E tu non mi dà la mano E mi ha detto Farete il sforzo Ti darò anche la mano Mi dà la mano Mi mette la mano nella spalla Così Cercava di abbracciarmi Mi ha detto Vado ad andare Vai E' andata via Lì prima non ci ho fatto caso Ma dopo appena Ho visto che partiva Che si è messa quasi a correre Ho messo la mano nel colo Mi ha fatto face La catena Mi sono corso dietro Ma lei Stavo quasi per arrivare Ma si è infilata nella macchina Con la portiera aperta E' stato partito Niente da fare Quindi la catenina Ha preso il volo Con i suoi ricordi E il suo valore Ora Sulla vicenda Indagano gli uomini Del comandante Barrasso Della stazione Dei carabinieri di Fano I carabinieri invece Della stazione di Borgo Santa Maria Hanno arrestato in flagranza Di reato Un 22enne Residente nell'entroterra Pesarese Già noto per precedenti Disoccupato Ritenuto responsabile Di rapine Il giovane Nel primo pomeriggio Di mercoledì scorso E' stato sorpreso All'interno della galleria Del centro commerciale Rossini Center A Pesaro Subito dopo aver rubato Una confezione di profumo Che aveva nascosto Addosso Per scappare Ha stratonato Uno delle guardie Giurate del negozio I militari Che sono subito Intervenuti sul posto Hanno perquisito Il 22enne E ritrovato il profumo Che aveva asportato Nella mattinata odierna Il GIP Del tribunale di Pesaro Ha convalidato l'arresto E disposto Nei confronti del giovane La misura d'obbligo Di presentazione giornaliera Presso la stazione Dei carabinieri Di residenza In attesa del processo Una ciclista fanese Di 50 anni È stata investita Da un'auto Mentre usciva Dal vecchio pronto soccorso Dell'ospedale di Fano In via Veneto Oggi pomeriggio Intorno alle 15 e 30 La guida dell'auto Una Fiat Panda Che procedeva In direzione Monte C'era una donna Di 60 anni Residente a Cartoceto La ciclista È caduta a terra Riportando lievi ferite Giudicate guaribili Dai sanitari Del pronto soccorso In pochi giorni Sul posto Oltre al 118 Anche a una pattuglia Dei vigili urbani Siringhe abbandonate A terra In un parco Vicino a una scuola elementare È accaduto a Fano Io raccolgo la cacca del cane Mi tocca raccogliere Le siringhe Non so di chi Cioè Inconcepibile Chiudetelo Recintatelo Fategli quello che vi pare Metteteci le telecamere Ma datevi una mossa Perché se qualcuno Si fa male Cioè non si sa Chi dobbiamo denunciare noi Siringhe usate E buttate a terra E bambini Che giocano nei paraggi Uno degli scenari Che più spaventa una mamma Siamo nei giardinetti Antistanti L'uscita delle scuole Corridoni Arriva anche una volante Del commissariato di Fano Allertata proprio Dai genitori Che ogni pomeriggio Aspettano l'uscita Dei propri figli E che mai e poi mai Vorrebbero che i bambini Vivessero una brutta esperienza Ma gli agenti di polizia Non sono nuovi a questa zona Già in passato Hanno affrontato e risolto Situazioni incresciose Di bivacco e degrado Allontanando i vagabondi Che avevano preso a dimora Questo piccolo angolo verde Ma ora All'ennesimo ritrovamento Di una siringa usata Con l'ago ancora infilato Mamme e papà Vogliono che il loro grido D'allarme Venga finalmente ascoltato E la cosa triste È che è da settembre E nessuno ci dà ascolto Le raccogliamo noi le siringhe Le buttiamo nel cestino Perché nessuno Viene a pulire Questo è un posto Dove i bambini Alla fine della scuola Vengono a giocare E dispiace A me dispiace Anche perché Si può verificare Qualche situazione Pericolosa Si bungono Insomma si tagliano I bambini giocano Perché all'uscita di scuola Dopo 8 ore di scuola Vengono un attimo E fanno una corsa Se uno casca E va a inciampare Una siringa Non è piacevole È quella la cosa triste Ecco vi siete accorgati Le siringhe Le avete buttate Metti che non ve ne accorgevate Rimanevano lì Sicuramente Io due volte Che raccolgo le siringhe Per terra Prima l'abbiamo detto Al comune L'abbiamo detto In giro Ai vigili urbani All'Aset Sembra che non sia competenza Di nessuno Ma di qualcuno Questo parco È competenza Anche perché ci giocano I nostri figli Uscendo da scuola È intollerabile La struttura Al centro dell'area verde Sembra essere l'ideale Per occultare abiti E masserizie varie Nel frattempo Che sopraggiunga la sera Per crearsi Un giaciglio Nel cubo di cemento Non è neanche tollerabile Che un giardinetto Pubblico Diventi il dormitorio Di barboni Drogati O via di sorta Cioè Non è una cosa concepibile Cioè Un minimo di sorveglianza Non Fatecela durante la notte Perché lì è diventato Proprio un buco Che è un dormitorio O lo chiudono Lo buttano giù Fanno quello che gli pare Fanno diventare Tutto giardino verde Oppure Cioè Vengano a controllare Anche perché saranno Sempre gli stessi Che gironzolano Qui intorno Questo lo sfogo Giustamente Delle mamme E pensare Che pochi metri Più là Nell'area Dove prima C'era il distributore Dell'Agip C'è qualcuno Che vorrebbe realizzarne Un altro di giardino Insomma Intanto cominciamo A sistemare E a tenere sotto controllo Quelli che abbiamo A Urbino Urbino Partecipa Alla settimana Blu Per l'autismo Indetta Dal lunedì 27 marzo A lunedì 3 aprile Prossimi In città Sono in programma Due iniziative Curate dall'assessorato Le pari opportunità In collaborazione Con L'associazione Onfalos Lifting Per alcuni Tratti di strada Dell'Interquartieri Di Fano Dopo la segnalazione Di asfalto rovinato A poche settimane Dall'inaugurazione L'Interquartieri Ha già subito Il primo ritocchino Di asfalto In 4-5 punti Come vi avevamo Mostrato Qualche tempo fa I lavori di asfaltatura In alcuni segmenti Del percorso Non erano stati Eseguiti Proprio a regola d'arte Creando così Un'usura precoce Del manto stradale La rotatoria di via Trave È stata rifatta Completamente Oltre all'innesto In quella del Poderino E due piazzole di sosta Nonché la svolta In Viale Italia Sono state Riasfaltate Completamente Nei giorni scorsi Dalla ditta Paltatrice Questo è stato possibile Perché il comune di Fano Cosa mai accaduta In precedenza Ha monitorato L'esecuzione Dei lavori Con carotaggi A campione Ed eseguito A posteriori Analisi di verifica Come a Bellocchi Quindi Prima di saldare I lavori L'ufficio tecnico Del comune Ha potuto intimare Alla ditta incaricata Di ripristinare Le zone maleseguite Per poter ricevere Così La quota restante Del 10% Un incidente Un incidente Sul lavoro A Serra dei Conti All'interno Dello scatolificio Five In via Mattei Un operario Di 26 anni Si è lacerato Un braccio Quello sinistro Mentre era addetto Ad un macchinario Soccorso Con l'eliambulanza Del 118 È stato trasportato All'ospedale Di Torrette Di Ancone Il giovane Non è in pericolo Di vita Sul posto Per i rilievi Carabinieri di Iesi E gli ispettori Dell'Asur Di Senigallia Mercoledì 29 marzo Alle 17.30 Presso la sede Del Consiglio regionale Delle Marche Si terrà un convegno Per riflettere Sul pensiero Di Papa Francesco E sul messaggio evangelico In epoca post-moderna L'iniziativa Del Movimento Ecclesiale Di Impegno Culturale Il MEIC In collaborazione Con il Consiglio regionale Delle Marche Nasce Sulla scorta Della recente pubblicazione Del volume Del professor Giancarlo Galeazzi Intitolato Il pensiero Di Papa Francesco Edito Nella collana Dei quaderni Del Consiglio regionale Delle Marche E adesso La pagina sportiva Con Matteo Del Vecchio Grazie Marco E benvenuti Al consueto appuntamento Con lo sport Di Fano e dintorni Che anche questa sera Si apre con il calcio E con l'Alma Juventus Fano Che nel campionato Di Lega Pro Nonostante una prestazione Un po' sottotono È riuscita a centrare Il quarto risultato utile Consecutivo Se è vero che una vittoria Forlì avrebbe fatto uscire Granata dalla zona retrocessione È anche vero che un punto In trasferta Contro una diretta concorrente E dopo una gara Non brillantissima È sicuramente Da considerarsi Un buon risultato Alla luce Anche del fatto Che la classifica Fatta eccezione Per la vittoria del Modena Sul campo dell'Albinoleffe È rimasta Pressoché alterata È un Fano Non nella sua serata migliore Quello visto ieri Al Morgagni di Forlì Al cospetto di un avversario Che già nel primo quarto d'ora Va vicino al gol In un paio di circostanze L'occasione più ghiotta Al trentaduesimo Quando è il palo A salvare Menegatti Sulla conclusione di Bardelloni Il tutto circa Un quarto d'ora dopo L'incursione in area Romagnola di Filippini Ben controllato Da Conson Stesso coppiono Nella ripresa Col Forlì a fare la partita E il Fano a ripartire In contropiede È bravo Menegatti A dire di no Ai padroni di casa In diverse situazioni E quando non può nulla Lui ci pensa Un'altra volta Il legno A salvare Granata Come nel caso Della traversa Colpita da Carini A sessantaduesimo Di fatto E questa è l'unica vera azione Pericolosa del secondo tempo Dove la pioggia torrenziale Frena le due squadre E consente agli ospiti Di portare a casa Un punto d'oro Che al novantesimo Fa esultare I Granata Assieme ai 450 Tifosi al seguito Sette le giornate Al termine del campionato È sempre più incandescente La lotta Per mantenere la categoria Con il Fano Atteso domenica prossima A un altro big match Al Mancini Infatti arriverà il Mantua Squadra attualmente A più due dagli uomini di Cuttone Che con una vittoria Farebbero un bel passo in avanti Occhio però anche alle spalle Dove Lumezzane E Teramo Distano solo due lunghezze E si fa sempre più accesa La lotta Per non retrocedere Anche nel campionato nazionale Di Serie B Di calcio A5 Boccata ad ossigeno Per l'Alma Juventus Che dopo quattro sconfitte Consecutive Torna la vittoria Nell'anticipo Della terz'ultima giornata Superando in casa Per 2 a 1 Il Torre Savio e Cesena Di Nicola Spieri E Damiano Giuliani Le reti che fanno Respirare gli All Blacks E consentono ai ragazzi Di Mister Ferri Di agguantare I cugini dell'Eta Beta Pesantemente sconfitti Nel derby di sabato A Lucrezia Il 9 a 1 finale È frutto di un approccio Sbagliato alla partita E fa scivolare di nuovo I fanesi In zona play out Dove è assoluta bagarre Per non retrocedere Con quattro squadre Nel giro di tre punti Fondamentali Le sfide di sabato prossimo Dunque Che vedranno l'Alma Scendere in campo Sul parquet del Cus Ancona Squadra che ormai Non ha più nulla Da chiedere al campionato E l'Eta Beta Ricevere il Corinaldo Formazione affamata Di punti Per evitare la retrocessione Diretta in Serie C In Serie A Femminile invece Sciupa una ghiotta occasione Il Flaminio Fano Che non approfitta Della sconfitta Della capolista Rambla Padova Facendosi sorprendere Fatica e Sara Berti Le reti delle Biancoazzurre Che restano così Seconde a meno 4 E domenica prossima Saranno di scena Proprio sul campo Della capolista Per quello che si preannuncia Un match sconsigliato Ai deboli di cuore E in K In una sconfitta interna Anche il Fano Rugby Impegnato ieri Nella quinta giornata Dei playoff Per la promozione In Serie B Le numerose assenze E gli allenamenti In settimana A ranghi ridotti Sono costati caro Alla truppa di Franco Tonelli Che contro i bolognesi Del Rugby Pieve Finisce la benzina A dieci minuti dal termine Rendendo così vane Le mete di Rossolini E Sambuchi 29 a 13 Il risultato finale Per gli ospiti Ma nessun dramma In casa Rosso Blu Visto l'esito della stagione Fin qui assolutamente positivo Con la salvezza Alla Serie C Già ampiamente conquistata E chi invece Deve dire addio Definitivamente Alla Serie C E l'Apav Calcinelli Lucrezia Nel campionato di volley femminile Fatale alle ragazze Di Morris Meloni La sconfitta Per 3 a 0 Di sabato Ad Offida Dove le arancionere Seppur lottando Ad ogni set Nulla hanno potuto Contro la capolista Che condanna Le metaurensi Alla Serie D In campo maschile Invece La Virtus Fano Supera per 3 a 1 San Severino Aprendo degli scenari Di classifica interessanti Una vittoria Nell'ultimo turno di sabato Contro Appignano Potrebbe voler dire Infatti Playoff per la Serie B Mentre una sconfitta Potrebbe significare Playout Cambiamo argomento Ora chiudiamo La pagina sportiva Con un'iniziativa Radicata ormai Sul territorio di Fano Targata Asi Pesaro E cooperativa sociale Polis Hanno ufficialmente Aperto le iscrizioni Lo scorso 20 marzo I Jump Centri estivi sportivi Patrocinati dal comune di Fano Che lo scorso anno Hanno coinvolto Oltre 750 bambini Dai 4 ai 14 anni L'edizione 2017 Dell'iniziativa Che si svolgerà Dal 9 giugno Al 14 settembre Come ogni anno Prevede settimane di sport Uscite Escursioni E laboratori E oltre alla città Della fortuna Toccherà i comuni Di Vallefoglia San Costanzo Sant'Angelo Illizzola E Monteporzio La prima novità Di questa stagione È rappresentata Dall'apertura Di alcuni centri Anche il sabato mattina Per saperne di più Si può consultare Il sito www.asipesero.it O telefonare Al numero 392 18 40 409 E con i centri Estivi sportivi Jump Si chiude la pagina Sportiva di questa sera Come di consueto Vi ricordo L'indirizzo mail Al quale potete inviare Le vostre segnalazioni Che è sportchiocciolafanotv.it Dalla redazione sportiva È tutto L'augurio a tutti voi Di una buona serata Bene Grazie Matteo Del Vecchio E allora Prima di salutarci Vi ricordo Che tutti i giorni Dal lunedì Al venerdì Alle 12.50 Alle 20.50 Quindi tra poco E subito dopo L'edizione della sera Delle 22.30 Di occhio alla notizia Partirà In cucina Con lo chef Un programma Di 5 minuti Dedicato alla cucina Con uno chef Davvero bravo Che vi spiegherà Come realizzare Alcuni piatti Da cucinare Noi ci fermiamo qui Il telegiornale è finito Grazie per averci seguito Vi ricordo che A questo numero Potete contattarci Attraverso Whatsapp Per le vostre segnalazioni A voi tutti L'augurio Di una buona serata Per le vostre segnali è finito 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 Grazie a tutti.